Per te è un problema se vado via anch'io. Guarda che sono una babysitter professionista. E poi tra poco arriveranno anche Navia e Chantal. Grazie dell'aiuto. Ok, buona fortuna. Ciao. Oh no, oh no, sta buona. Oh shh, non svegliare gli altri, ti prego. Oh, ci picchia. Io ho tanta fame. E io ho tanta sete. Io sono un camion dei pompieri. Ok, ok. Allora, che cosa ne dite di fare gli orsetti e di andare un po' in letargo, eh? Facciamo il camion dei pompieri. Ok, i camion devono correre. Non saltare su quella poltrona, ti prego, non saltare. Fermi, fermi. Ok, eh... Uno sky eye e patatine fritte. Uno sky eye e patatine fritte. E come contorno cetrioli e cipolle. E come contorno cetrioli e cipolle. Cosa desideri, dillo a me. Ma sei obbligata a cantare. Già, però mi piace. Mi dà tanta gioia, come il mio nome. Sono Joy. Io Skipper. Vuoi sapere cosa si mangia? Certo. Cheeseburger, onion rings e per finire un dolce. A un prezzo così basso non puoi non ordinare. E' solo un frullato, ma tu sei davvero grandiosa. E anche voi. Grazie. Oh, caspiterina. Mi sembrava di aver già sentito l'indirizzo. È il parco acquatico. Adoro questo posto. Sarà il lavoro estivo più bello di sempre. Di sicuro. Miam, miam. Salve. Oh, anche no. Eh dai, che fine ha fatto il tuo spirito di avventura? Avventura? Questo posto mi ricorda quel film in cui i ragazzi che lavoravano in un parco a tema scoprono di essere le cavie per l'esperimento di uno scienziato pazzo. Sì, ma alla fine acquistano i superpoteri. Non sarebbe meraviglioso? Ho sentito dire che il capo è un vero mostro. Ha creato questo posto per dividere, conquistare, per renderci deboli. Ma con me non funziona. Io sono Anna. Skipper. E lei è Joy. Ciao. Che belli i tuoi orecchini. Grazie, li ho fatti io. Ma non cerco lavoro. Vorrei solo chiedere se mi lasciano vendere i miei prodotti. E io vorrei non essere terrorizzata. Oh! Il prossimo! Ah! Ah! Dog sitter professionista a disposizione! Oh! Ma com'è carino! Aspetta! Ma non è un cane vero? Gli affari non vanno molto bene e io ho bisogno di un lavoro. Ascolta! Perché non provi ad andare al parco acquatico? So che hanno un asilo per cani. Veramente? Io adoro i cani! Secondo voi mi assumono? Hanno assunto chiunque. Oh, cosa mi dici? È una cosa fantastica! Ho sempre sognato di lavorare in un asilo per cani. A proposito, sono Sherry. Ehi, che belli orecchini! Ehi, grazie! Io sono Anna, Skipper e Joy. Oh, quella è mia madre. Ci vediamo domani! Ve l'ho detto, sento che le cose si mettono bene! Ehi, ragazzi! Sei tu! Vieni a giocare! Come mai non ci sono adulti a tenervi a bada? Dov'è Tammy? Non lo so. Chi è Tammy? Scommetto che non batterai mai il mio record! Questo è il massimo! Wow! È troppo forte! Voi lo sapevate che le pedine nere e quelle rosse sono in numero pari? E? Anche il numero di caselle rosse e nere è pari. È il gioco più bello del mondo! Ha tanti numeri pari! Ci gioco io? Non ci credo! Hanno il croc! Forte!